Per quello che riguarda i 30 all'ora, il codice della strada prevede, io ne sono un sostenitore, che in alcune limitate, motivate zone delle città a rischio possano essere ridotte velocità o installati degli autovelox. Penso alle scuole, agli asili, agli ospedali, alle case di riposo, a strade più strette. Pensare di estendere i 30 all'ora, le ZTL, a interi luoghi cittadini non aiuta né la sicurezza né la decarbonizzazione, è semplicemente complicare la vita a gente che vuole lavorare. Quindi benvengano le riduzioni di velocità e gli autovelox laddove c'è un motivo, malvengano gli autovelox che qualcuno mette per fare cassa sulla pelle degli automobilisti.